Cometa che sta passando ora nella parte interna del sistema solare, che verso la fine di questo mese potrebbe diventare visibile anche ad occhio nudo. Ora, le comete sono molto come i gatti, con le code imprevedibili e potrebbero distruggere tutto quello che hanno intorno, quindi bisogna sempre tenerle d'occhio e vedere quanto si avvicinano a noi. Per fortuna in questo caso il primo febbraio passerà nel punto più vicino alla Terra, a 42 milioni di chilometri di distanza, quindi sufficientemente lontano per non preoccuparci, ma abbastanza vicino da riuscire a goderci lo spettacolo. Sarà visibile come un piccolo battufolo verde vicino alla stella polare, e quindi se volete vederla nel frattempo abituatevi a trovare la stella polare e andate poi fuori dalle città verso la fine del mese. Si vedrà tutte le sere. Ora, si chiama ZTF, che non è un nome per dire zona traffico fantastico, anche se sarebbe divertente, sta per il nome del telescopio che l'ha scoperto, Zwicky Transit Facility. È anche stata chiamata Cometa dei Neandertal perché 50 mila anni fa, quando è passata l'ultima volta, c'erano i Neandertal, ma c'erano anche dei bradi più giganti nel Sud America che si chiamavano Megateria e vista la lentezza della nostra orbita, secondo me sarebbe un nome fantastico per una cometa. Quindi viva la cometa del bradipo gigante!